Pronto, ci vedono i lampi? Ci siamo? Posso andare? Ci siamo? Eccoci qua, eccoci qua con la nostra? Lucrezia. Che fai sputi? No. Ah ok, ok. Lucrezia da dove? Grumello. L'ha detto giusto, vero? L'ha detto giusto stavolta. Guardate, quelle chi sono? Quelle chi sono? Quelle sono le mie amiche. Dai, presentamene, dato che facciamo la carrellata. Ecco, Nicola, Giussi, Silvia, Sara, Alessia, Martina, Lara. Adesso torniamo indietro con la carrellata, mi dici i soprannomi? Michi, Giussi. No, no, quella, da là, da là, da là. Da là. Lari, Marti, Ale, Sari, Silvia, te Silvietta, Giussi, Giussi, rimane Giussi e Michi. Ok ragazzi, facciamo un urlo per la nostra Lucrezia. Fantastico, perché Lucrezia tu stai a scuola a festeggiare? I 21 anni. 21 anni? Cavoli, 21 anni. E dimmi, cosa sogni per i tuoi 21 anni? Eh, quello lo teniamo nascosto. Lo teniamo nascosto? Sì, va bene. È qualcosa che si può usare solo di nascosto? No, è qualcosa che si può tentare di lavorare, ma è un lavoro che tenteremo di fare un giorno. Ragazze? Il mio sogno è quello. Ci vuole lavorare sopra, eh, la Lucrezia? Vuole lavorare nel settore, se ho capito bene, nel settore dell'hard? No, perché ho capito, ci vuole lavorare sopra, allora mi sto confondendo? Ci stai confondendo un pochino. Ok, allora ce lo dissi te, qual è il tuo sogno? Voglio fare la gelataia. Quella, sempre col cono c'era da fare comunque, ragazzi. Eh, che c'era sempre qualcosa del genere. Assicurati che non sia la gelateria Borgia, perché altrimenti... La gelateria Borgia è pericolosissima quella, giusto? No, hai già anche il nome della gelateria? No, no, ce lo teniamo ancora da pensare. È giusto, è vero, Lucrezia, gelateria Borgia, perfetto, abbiamo fatto anche il nome, abbiamo fatto il nome. Adesso non ti montare la testa, monta solo la panna, mi raccomando. Va bene. Ecco qua, ok. Allora, dai un bacio a tutte le tue amiche? Ok, ciao a tutte, saluta in camera Lucrezia Borgia, la gelataia di Sarnico, che così non si confonde. Ciao!